I just wanted Potrebbe togliere il sonno per molti, molti giorni. Esattamente quanto successo a questa donna che, al momento di riguardare il contenuto della sua macchinetta digitale, si è trovata di fronte un dettaglio molto, molto inquietante. L'immagine di un bambino dall'aspetto cadaverico che faceva capolino alle spalle del figlio. Protagonista della storia lei, Laura Vazzoni, madre di due bambini, che ha poi confessato sulle pagine del telegratto di non essere più riuscita a dormire dopo aver visto quelle angoscianti fotografie. Originaria della città di Newcastle, in Inghilterra, la donna aveva deciso di portare tutta la famiglia al Plessy World's Park per il weekend, così da riunire tutti i suoi affetti più cari per del sano divertimento all'aria aperta. Una scelta che Corsenno di poi non rifarebbe. Continua a leggere dopo la foto, dopo aver mangiato sdraiati sul prato e passato un po' di tempo a scherzare e prendere il sole, il gruppetto ha infatti deciso di fare una passeggiata all'interno del parco. A un certo punto, Laura ha avuto un'idea? Prendere il cellulare della figlia Carlotte, 15 anni, e scattare qualche foto alla ragazza in compagnia del fratellino più piccolo Birin, e al cugino Jacques, che si era unito al resto del gruppo per l'occasione. Un paio di clic, niente di più. Ma quando poco dopo i familiari, hanno dato un'occhiata alle immagini per vedere come erano venuti, ecco saltar fuori in dettaglio horror. Una figura misteriosa, simile a un bambino dal colorito pallido e inquietante. Continua a leggere dopo le foto, la famiglia Ola, sconvolta, ha deciso così di interrompere in anticipo il pomeriggio di svago. La donna ha successivamente diffuso le immagini sui social, spiegando. Io e mia figlia siamo rimaste così terrorizzate da non essere più riuscite a dormire da quel giorno. Gli utenti, intanto, hanno iniziato ad azzardare possibili ipotesi dietro allo strano fenomeno. I più fantasiosi hanno subito bollato il parco come maledetto, infestato dallo spettro di un ragazzino forse morto nel lago lì vicino. Per altri, un banale fotomontaggio fatto ad arte per un po' di sana pubblicità gratuita. . 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